Insieme ai Piazzi di GIS vuol promuovere la conoscenza degli obiettivi di sostenibilità, la conoscenza dell'Agenda 2030, attraverso l'illustrazione di una serie di progettualità che vengono fatte e tramite delle animazioni, delle attività che coinvolgono i ragazzi, i bambini e la cittadinanza. Si partirà con un'installazione che verrà resa disponibile nei vari giorni dal 15 al 18 in Piazza San Francesco, specialmente dedicata ai bambini. Poi ci saranno altre cose interessanti, ci sarà per esempio un consiglio comunale straordinario, quindi un consiglio comunale dove si parlerà di questi argomenti, ma ci sarà anche la presentazione dei progetti del Comune di Siena e dei progetti dell'Università di Siena e della Fondazione Monte di Paschi in maniera tale che ci sia più facilità per tutti quanti per conoscere quello che si sta facendo. Ci sarà un concerto, il 15, per i nostri ospiti. Ci sarà anche l'inaugurazione dell'orto idroponico presso Santa Chiara Lab. Ci saranno la presentazione anche di quelli che sono i principali temi oggi dell'agroalimentare tramite un panel con degli ospiti di alto livello che discuteranno del futuro dei sistemi agroalimentari. Ci sarà un discorso ad hoc da parte di Jeffrey Sachs, uno dei principali esperti al mondo di sviluppo sostenibile, consigliere del Papa, consigliere del Direttore Generale della FAO e ci sarà anche il Direttore Generale della FAO che interverrà al Graduation Day.